Franco Genzale presenta la siringa di Mila Martinetti. Aldo Cennamo è il commissario della Federazione Irpina del Partito Democratico scelto venerdì dalla direzione nazionale. La sua prima dichiarazione mi adopererò con tutte le mie energie per assolvere il mandato affidatomi e ristabilire un clima di serenità e di dialogo. Per favore, qualcuno della parrocchia PD rassicuri Cennamo. Per raggiungere l'obiettivo non deve sforzarsi più di tanto, basta fare l'esatto opposto di quanto fece il commissario inviato da Renzi, Davide Ermini, e non incontrare mai, nemmeno per un caffè, il segretario regionale Leo Annunziata. Per raggiungere l'obiettivo non deve sforzarsi più di tanto, basta fare l'esatto opposto. Per raggiungere l'obiettivo non deve sforzarsi più di tanto, basta fare l'esatto opposto. Per raggiungere l'obiettivo non deve sforzarsi più di tanto, basta fare l'esatto opposto.